La neve non ferma la solidarietà per l'Ucraina. Anche stamane, nonostante il maltempo, sono stati molti volontari che hanno raggiunto il punto d'aiuto umanitario lessito presso i locali del Centro per Anziani della Caritas per consegnare beni di prima necessità. Uno slancio di cui sarebbe orgoglioso Don Ferdinando Renzulli, indimenticato parroco delle emergenze, a cui è dedicato il Salone della Struttura di Viannarumma. Un locale pieno di solidarietà e amore irpino. C'è bisogno ora di kit di primo soccorso, medicinali, coperti alimenti per bambini e soprattutto volontari da ogni parte della provincia a bordo di mezzi imbiancati dalla neve carichi di materiale che nelle prossime ore viaggerà in pullman verso l'Ucraina. Generoso e Sabatino sono venuti dalla Pio, dove la protezione civile ha organizzato in questi giorni una raccolta di beni. Chi ha collaborato a questa raccolta? È un mondo del paese. Il paese è risposto bene. Adesso ci sta un altro carico da fare. Siccome ci sono pure due o tre donne ucrate, tra cui una e mia moglie, che stiamo lì alla via, e allora siamo interessati e da tutti i paesi hanno partecipato. Molte le iniziative promosse da associazioni e cittadini, donazioni che confluiscono al centro di Viannarumma. In campo anche l'archeoclebbe ha nasperduto un'ala del negozio della giovane commerciante di Via d'Italia e inaccessibile tante le consegne avvenute da parte della comunità. Diciamo che anche in questa situazione, in questo caso, siamo stati presenti sul territorio vellinese come punto di raccolta presso l'attività di mia mamma, Merceria Pasquale. Sono tre giorni, in solo tre giorni, come ben puoi vedere con la telecamera, il mezzo locale è stracolmo di merce, di roba, di farmaci, di alimenti, di coperte. Molte persone hanno portato addirittura... queste sono tutte nuove, vedi? Un negozio che ha donato tutte scarpe nuove. Sono tutte scarpe nuove, ci sono un sacco di giubbini praticamente nuovi, non solo roba diciamo in buone condizioni, farmaci, alimenti, di tutto e di più. Il negozio è impraticabile, voglio ringraziare pure la mia mamma che è realmente sempre disponibile, nonostante sia un'attività commerciale, sono due giorni che qua dietro proprio non vende i prodotti per dare la possibilità di aiutare tutte queste persone. Cerchiamo sempre di essere presenti, nonostante la nostra situazione, voglio dire. Grazie. 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 Grazie.